Mi fai un attimo sulla cervicale qua? Questo è un punto un po' delicato. Qua, C3, C3. Perché mi fai lo sciazzo? Con un dito? No, farlo con tutte le mani, come prima. Ma che ti sei impazzita? Non ti sei attaccato in quadro? Se tu hai scelto a me, quindi tu hai scelto a me? Sse! Ma ci sei? Circa una trella. Ci sei impazzita? Sono impazzita? Non ti sei? Non! 천ete! Ma ci sei? Non ti sei? Io ti sembra mi? Attravo io, sent mu? Oh, a voi allora... E te la sei cercata da sei?